Anche quest'anno, in occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, il mezzo mobile attrezzato tornerà a percorrere i comuni della provincia, offrendo l'opportunità di effettuare screening mammografici gratuiti. Il tour prenderà il via oggi a Resuttano e proseguirà nelle località di Santa Caterina Villarmosa, Marianopoli, Villalba, Vallelunga, Sera di Falco e Riesi. A partire da novembre il servizio si estenderà con un secondo tour che toccherà Sommatino, Delia, Butera, Acquaviva, Sutera, Campofranco, Milena, Bonpensiere e Montedoro.